Ma ha dell'erba! Qualcuno ha dell'erba! Te! Ti prego! Ne ho bisogno! Erba calabrese, produzione propria. Qualcuno ha dell'erba! Te! Ti prego! Ne ho bisogno! C'è una stagione in la quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con il lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra due mesi, tre mesi, quattro mesi. Ma andiamo i carabinieri, ma li mandiamo con il lanciafiamme. Qualcuno ha dell'erba! Le ho bisogno! Io ritengo che sia arrivato il momento per chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Quattro mesi, quattro mesi, quattro mesi. Militarizzare l'Italia! Militarizzare l'Italia! Militarizzare l'Italia! Italia! Italia! Io ho bisogno di rispettare l'Italia.